Ecco ragazzi siamo qua un attimo ancora al padiglione di Samsung adesso c'è praticamente questa ragazza che si fa fare una sorta di serigrafia con la nuova funzionalità di Samsung scusate stavo un attimo mettendo a posto il microfono praticamente si fa fare la foto con praticamente S-Pen e quant'altro perché praticamente prima non ve l'ho detto ma nella funzionalità di Samsung c'è anche la funzionalità di matita è proprio un effetto vero guardate quanto è grande il padiglione di Samsung abbiamo dalle lavatrici e gli aspirapolveri abbiamo di tutto e di più qui invece che c'è vediamo un attimo wow guardate che bello fantastico e qui guardate cosa c'è abbiamo addirittura le cinture